ciao ragazzi allora oggi vediamo insieme il mega confrontone tra tutti i trigger della Godox ovvero l'X2T, l'X Pro, l'X Pro 2 e l'ultimo arrivato cioè l'X3. Mi manca l'X1 comunque vabbè insomma tanto è abbastanza vecchiotto anche se non fa parte del gruppone va poi bene lo stesso. Perché faccio questo confronto? Perché è arrivato appunto l'X3 e quindi ha senso magari per alcuni di voi capire quali sono le differenze tra l'uno e l'altro e vedere se ha senso risparmiare prendendo un trigger al posto dell'altro. Il confronto sarà svolto confrontando caratteristiche tecniche quindi vi elencherò tutta una serie di caratteristiche tecniche e per ognuno dei trigger in analisi vi vado a dire effettivamente come si comporta sotto quel punto di vista. Per poi trarre alla fine alcune conclusioni molto molto generali su qual è il migliore da un certo punto di vista e qual è il migliore da un altro punto di vista. Ma partiamo dalla prima caratteristica dimensioni e peso. Per quanto riguarda le dimensioni ovviamente l'X3 vince perché è il più piccolo di tutti e vince anche per il peso perché non avendo le batterie AA ovviamente è il più leggero in assoluto. Quindi per dimensioni e peso vince lui mentre gli altri sono tutti abbastanza paragonabili. Diciamo che tra tutti l'X Pro 2 e l'X2T pesano abbastanza uguali e sono tutti e due abbastanza ingombranti. L'X Pro, la prima versione, è leggermente più leggero e leggermente meno ingombrante dell'X Pro 2 anche se sono veramente differenze piccole. Questi montano quindi l'X2T X Pro e X Pro 2 montano due batterie AA mentre invece questo ha le batterie a litio quindi ha una piccola batteria a litio ricaricabile via USB Type-C. Tutti sono in grado di gestire gruppi sia in modalità manuale che in modalità TTL anche mischiate tra loro. Quindi non tutto per forza in TTL, non tutto per forza in manuale ma alcuni gruppi in TTL, alcuni gruppi in manuale. Per quanto riguarda il numero massimo di gruppi gestibili con l'X3, l'X Pro e i 2X Pro si possono gestire fino a 16 gruppi mentre invece l'X2T si ferma a 5 gruppi ABCD. Invece su questi possiamo anche selezionare i gruppi da 1 a 0 a 9. Tutti possono scattare sia sulla prima che sulla seconda tendina e in modalità high speed sync. Parliamo di visibilità. Allora per quanto riguarda visibilità l'X2T è l'unico che ha la visibilità frontale cioè che nel momento in cui lo mettiamo sulla macchina fotografica lo vediamo frontalmente quindi stiamo inquadrando qualcosa, alziamo lo sguardo, vediamo i valori. Tutti gli altri vengono messi sulla slitta e bisogna abbassare la macchina fotografica per poter vedere i valori. L'X2T e l'X3 mostrano fino a un massimo di tre gruppi in contemporanea e ovviamente qua si può andare ancora sul quarto e quinto e qua scorrendo, adesso ce ne sono abilitati solo tre, comunque scorrendo si possono vedere tutti gli altri. Mentre invece con i due X Pro, sia la prima versione che la seconda, si possono vedere fino a 5 gruppi in contemporanea. Parliamo di visibilità in ambienti scuri. Allora, l'X3 ovviamente è quello che si vede meglio in assoluto perché ha uno schermo OLED e quindi assolutamente la visibilità è l'ultimo dei problemi. Mentre invece per quanto riguarda gli altri, allora gli schermi ovviamente si vedono quando siamo in notturna, però parliamo di quando gli schermi sono spenti. Quando gli schermi sono spenti abbiamo che l'X2T e l'X Pro 2 hanno tutti i pulsanti retroilluminati, quindi si vedono molto bene agendo anche all'oscuro. Possiamo schiacciare i singoli pulsanti vedendoli anche all'oscuro. Mentre invece l'X Pro non presenta nessun tasto retroilluminato, quindi l'X Pro è l'unico ad essere veramente difficile da vedere in condizioni di bassa luminosità, quindi in notturna. Parliamo di sistemi di controllo. L'X2T, l'X Pro e l'X Pro 2 ovviamente fanno tutto con tastini e rotellina, mentre invece l'X3 è l'unico che ha il sistema touch che permette di cambiare la potenza appunto con il dito, ma integra anche una rotellina che permette comunque di cambiare i valori di potenza fisicamente agendo su un parametro, su una rotellina. Slitta passante. Solo l'X2T ha la slitta passante, cioè lo ganciamo sulla macchina fotografica e sopra mette a disposizione un'altra slitta per poter mettere un altro flash o un altro trigger se uno volesse integrare due marchi diversi, ok? Mentre invece i due X Pro e l'X3 non hanno la slitta passante e quindi non permettono questa cosa. Bluetooth, allora a cosa serve Bluetooth su questi trigger? Serve per poter comandare i flash via app della Godox. L'ho provata sul cellulare, funziona bene, come vi ho già detto prima o poi farà anche un video in proposito. Comunque a parte quello, tra questi trigger solo due hanno Bluetooth e sono l'X2T e l'X Pro 2, mentre invece l'X Pro e l'X3, stranamente sull'X3 mi fa molto strano che non sia qua, ma a quanto pare non c'è, quindi X Pro e X3 non hanno il Bluetooth, quindi non permettono di comandare i flash tramite app, mentre invece questi due hanno questa caratteristica. Sistema di aggancio. Per quanto riguarda il sistema di aggancio abbiamo il sistema più vecchio, che è quello dell'X Pro, che è quello della rotellina che gira, si aggancia tramite quello. È il sistema un po' più vecchio, funziona chiaramente, però a volte diventa scomodo, soprattutto in condizioni in cui magari fa un po' freddo e diventa difficile andare a usare questa, o si hanno le mani intorpidite o che scivolano, insomma, la rotella non è il massimo del sistema. Mentre invece abbiamo che l'X2T e l'X Pro 2 hanno sistema di sgancio rapido, quindi ve lo faccio vedere qua. Ovviamente si gira, si blocca, a questo punto schiacciando il tasto ritorno in posizione, quindi stack è il sistema più rapido in assoluto tra tutti i trigger. E infine abbiamo che l'X3 ha un nuovo sistema dato da un pulsante in questa posizione, quindi si aggancia, si preme il pulsante e si può sganciare. Pensavo fosse più rapido come sistema, invece preferisco ancora il sistema a sgancio rapido del X Pro 2 e dell'X2T, perché questo sarà che, forse per il trigger che è molto piccolo, l'ho trovato leggermente scomodo rispetto all'altro che è veramente fulminio da agganciare e sganciare. Parliamo di gestione della parabola con l'utilizzo di flash speed light. Ovviamente se uno utilizza dei flash da studio o comunque flash a bulbo, questo non è un problema perché tanto non c'è da gestire nessuna parabola tramite i trigger, ma quando si usano flash speed light, tra gli speed light intendo anche ad esempio la D100 Pro che permette di cambiare la parabola, allora per gestirlo tramite trigger diventa importante. Allora, per quanto riguarda la gestione della parabola abbiamo che i due X Pro vincono rispetto agli altri due perché hanno una gestione della parabola che ci permette di modificarne il valore per ogni singolo gruppo. Quindi, come vedete qua, spero si veda, permettono di gestire la parabola per ogni singolo gruppo e quindi abbiamo che magari un gruppo è a parabola 24 mm, l'altro a 105 mm e avanti così. Mentre invece l'X2T e l'X3, anche questo grave mancanza dell'X3 che per odio potrebbe essere sistemata con il prossimo aggiornamento firmware, perché questo ha un firmware veramente base base appena arrivato, quindi ci sta che venga poi modificato. Dicevo, con questi due invece abbiamo un unico valore di parabola che è costante per tutti i flash, quindi dobbiamo decidere o tutti flash a 24 mm o tutti flash a 105 mm e avanti così. Parliamo ora della gestione della lampada di modellazione, modeling light luce pilota, chiamatela come volete. Allora, per quanto riguarda la gestione della lampada di modellazione abbiamo che l'X2T permette solo unicamente di accenderla e spegnerla per tutti i gruppi. Non c'è la possibilità di accenderla e spegnerla per singolo gruppo, ma solo per tutti contemporaneamente. l'X Pro invece permette di accenderla e spegnerla per tutti i gruppi, ma anche singolarmente, quindi gruppo A, gruppo B, gruppo C, accendo quella dell'A, spengo quella del B e avanti così, ma non permette di modificare l'intensità della luce pilota né di posizionarla in modalità prop, cioè modalità proporzionale, ovvero che quando aumento la potenza del flash aumenta la luce pilota, diminuisca la potenza del flash, diminuisce la luce pilota. Quindi questo sì gestione dei gruppi separati, ma no gestione della potenza della lampada di modellazione. Mentre invece X Pro 2 e X 3 hanno una gestione completa della della lampada di modellazione, perché si può accendere e spegnere per ogni gruppo separatamente e in più permettono di modificarne la potenza e anche portarla in modalità prop, cioè in modalità proporzionale. Funzione TCM, ovvero convertire il valore calcolato in TTL in automatico dal flash al valore in manuale. Quindi, ad esempio, ho scattato in TTL, benissimo, mi piace la potenza che è uscita, la voglio tenere costante per tutti i prossimi scatti, schiaccio la funzione TCM, lui mi riporta che il flash era a un sedicesimo di potenza, bene, so che da lì non varia più. Questa funzione ce l'hanno l'X Pro, l'X Pro 2 e l'X 3, mentre invece manca sull'X 2T. Potenza minima e step di variazione della potenza. Tutti permettono di variare la potenza sia in terzi di stop che in decimi di stop, ma per quanto riguarda la potenza minima abbiamo che l'X Pro 2 e l'X 3 permettono di scendere fino a un 512, mentre invece l'X 2T e l'X Pro permettono di scendere solo a un 256esimo di potenza. Shoot Modes, cioè le modalità di scatto. Tutti e quattro i trigger permettono di scattare con lo Shoot Mode una personcina, tre personcine, ma l'X 3 non ha la possibilità di scattare in modalità UP o L858D, cioè quella modalità in cui lui non comanda nessun valore di potenza dei flash, ma li fa scattare unicamente. Ecco, questa modalità manca su questo trigger, mentre invece tutti questi ce l'hanno. Scan del miglior canale su cui posizionare i nostri radio trigger. Allora, per quanto riguarda la funzione scan, ce l'hanno tutti tranne l'X Pro, quindi questi permettono di cercare qual è il canale migliore, non lo so, il 12, il 21, quello che l'è, mentre invece con l'X Pro bisogna decidere un canale e basta. Non possiamo sapere quello che è meno disturbato dal punto di vista radio. Attivazione e disattivazione dei singoli gruppi. Allora, per quanto riguarda attivazione e disattivazione dei singoli gruppi, abbiamo che l'X Pro 2 ha una funzione comodissima che è il doppio tap, cioè il doppio schiacciare due volte il pulsante. Questo permette di attivare e disattivare i gruppi con molta velocità. L'X 3 permette invece di andare sul gruppo, schiacciare la pausa e tornare indietro e quindi il singolo gruppo poi va in off e è anche questo abbastanza veloce. Quindi questo è il più veloce, questo è il secondo più veloce, mentre invece questi due sono molto più macchinosi perché bisogna scorrere tra tutte le modalità. Quindi selezionato un gruppo bisogna schiacciare mod e a quel punto scorrere tra TTL, M e disattivo, TTL, M e disattivo. Quindi se ero in M e voglio spegnerlo, per carità basta selezionare il gruppo, schiacciare mod e si spegne. Ma se voglio riattivarlo dovrò per forza rischiacciare il gruppo, schiacciare mod, va in TTL, schiacciare mod e va in manuale e mi torna sul valore chiaramente che avevo stabilito prima. Analogamente anche sull'X2T, quindi è un po' più scomodo perché bisogna scorrere i vari modi di lavoro del singolo gruppo, mentre invece qua abbiamo il doppio pulsante e qua possiamo mettere su ON e OFF. In conclusione, quindi, l'X Pro 2 è il più completo tra tutti i trigger, perché è quello che ha tutte le funzioni, non gliene manca una, quindi è il più completo, chiaramente però è anche il più grosso e pesantino. Quindi per chi vuole tutte le funzioni e però non gli interessa di avere più peso anche da portare in giro, avere più ingombro da portare in giro, in giro, l'X Pro 2 è la versione corretta per lui. L'X3 è quello che si vede meglio, sia di giorno che di notte ed è il più compatto, il più leggero. Gli mancano chiaramente alcune cose, come abbiamo visto all'interno del video. Quindi per chi cerca una soluzione estremamente compatta, leggera e che comunque ha tante tante funzioni, secondo me quella più pesante che gli manca è la gestione delle parabole separate, quindi avere un flash a 24 mm e l'altro a 85 mm. Ecco, questo gli manca, è secondo me la funzione più pesante che gli manca, ma spero la metteranno con un nuovo firmware. Comunque, a parte questo, se un esempio scatta solo con flash, con bulbo, non è assolutamente un problema e questo diventa praticamente il trigger perfetto. L'X2T è l'unico trigger che ha la slitta superiore e ha la visibilità a livello dell'occhio, quindi se siamo una persona a cui interessa scattare, quindi guardando nell'oculare, alzare l'occhio, vedere i valori del flash, ritornare giù, questo è il trigger perfetto, perché con gli altri non c'è niente da fare, bisognerà o alzare la testa, o abbassare la macchina fotografica per vedere i valori delle potenze dei flash. Questo è l'unico che permette con un colpo d'occhio di guardare così. Ha il problema che è un po' ingombrante, perché è un bel cubotto e pesa abbastanza, e in più ha una serie di limitazioni che sono quelle che abbiamo visto prima. L'X Pro tra tutti non eccelle su nulla, ma funziona molto bene, ok? Quindi se uno non vuole spendere soldi per l'X Pro 2, che è ben detto essere più completo, ma gli interessa comunque avere la visibilità di tutti i valori dei cinque gruppi in contemporanea, con l'X Pro si può risparmiare qualcosa e bene o male portare a casa un risultato molto molto interessante. Gli mancano alcune cosine, ma l'abbiamo vista all'interno del video, quindi se a qualcuno interessa quelle che non interessano, ovviamente l'X Pro è la risposta giusta, perché permette di risparmiare qualcosa rispetto all'X Pro 2. Detto questo, spero questa carrellata vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima. Ciao!